Iniziamo pelando le patate. Tagliate le patate a spicchi grossi. Teniamo a mollo le patate in acqua fredda per 20 minuti. Puliamo e tagliamo i finocchi a spicchi. E li immergiamo nell'acqua fredda. E infine peliamo le carote. Tagliamo le carote a bastoncini. E le mettiamo nell'acqua con i finocchi. Scottate le patate in acqua bollente per 10-12 minuti. E copriamo. Passato 5-6 minuti dalla cottura delle patate, uniamo i finocchi e le carote. copriamo e lasciamo cuocere tutto altri 5-6 minuti. Passato in totale 12 minuti andiamo a scolare le verdure. Una volta scolato bene le verdure, le disponiamo su una teglia da forno ricoperta di carta forno. Condiamo le verdure con l'olio. il sale, il pepe. Mi sono preparata le erbe aromatiche salvia, rosmarino e timo, freschi. e aromatizziamo le verdure. A presto. A presto. A presto. A presto. In forno preriscaldato ventilato a 200 gradi per circa 20-25 minuti. finiamo con un altro filo di olio. A presto. 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 Grazie a tutti.